Una tragica fatalità, un incidente assurdo e drammatico. Santa Bedino, 81 anni, è stata travolta e uccisa nel cortile di casa dal furgone condotto dal figlio che stava facendo manovra per uscire. Un incidente, questa è la prima ricostruzione dell'accaduto, fatta dalla polizia locale della Federazione del Campo San Pierese e dai Carabinieri, avvenuto in via Cocche, località di Arsego, nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Per la donna nessuno scampo. Il medico del 118 ha potuto solo constatare la morte. Una famiglia che vive da sempre in quella casa, a due passi dall'abitazione del sindaco. Una tragedia che lascia veramente senza parole, nel senso che non c'è nulla da dire, non c'è nulla da commentare se non riportare tutto il sentimento di tristezza, di incredulità, di rammarico, di sconforto di tutta la comunità, della Contrada Cocche, del paese di Arsego e di tutto il comune di San Giorgio delle Pertiche. La famiglia Zantomio è conosciutissima, vive, frequenta da sempre il paese. E il caso ha voluto che altre tre tragedie simili, con auto e furgoni in retromarcia, a travolgere e uccidere, siano avvenute nel giro di poche settimane. A Polverara, un'ottantenne, è stata travolta in paese. A Padova, stessa morte per una donna israeliana di 82 anni, finita sotto un mezzo della nettezza urbana. E poi a Monseli c'è un 85enne colpita dal furgone di un conoscente, anche in questo caso, in retromarcia. Cosa si può fare? Credo che sarebbe ora di dotare d'ufficio, per legge, tutti i mezzi di trasporto, di nuova immatricolazione, dei sensori di parcheggio, così come tanti anni fa sono stati introdotti obbligatori alle cinture di sicurezza. Nel senso che veramente è un presidio che costerasse prodotto di serie pochi pochi euro, 10, 20 euro, 30 euro, non lo so, ma che nel caso di ieri sarebbe stato fondamentale a salvare una vita, una vita di una persona per bene, una persona a cui anch'io volevo bene.